Gentilissimi telespettatrici, gentilissimi telespettatori, amici di telecittà e amici di Facebook. Sembra il ristorante Monte Carlo, ristorante lussuoso, bello, elegante. Il ristorante è pizzeria, pizzeria. Scusa Bernardo, non me l'ho fatto un'offesa. Però oggi parleremo, ma no di pizza, ma parleremo con un grande uomo. Grande uomo che io, ma un grande uomo perché sei grande, ma no di età. Sei sembra di cune, la gente non si è dimenticata mai di te. Guarda, non te scherzano, ogni volta che io passo per l'estate, hai dei tempi buffo a 10, hai dei tempi buffo a 10. Stefano non è stato, ma tu è stato. L'estate dove ti piacerebbe, ma vedi la Monte Rosso, perché tu sei nativo di Monte Rosso. Sono nato a Monte Rosso, ma ho sempre vissuto a Siracusa all'epoca, io ho 65 anni, all'epoca si partoriva a casa. La mia mamma era di Monte Rosso e quindi sono stato partorito a Monte Rosso in questo paese. All'epoca, peraltro, la provincia era anche di Siracusa, poi nel tempo si è modificata e la provincia è diventata di Ragusa. E sono chiaramente legata al mio paesello, anche se da quando avevo poche settimane ho sempre vissuto a Siracusa, perché la mia famiglia, Bufferdeci, ha sempre abitato e ha sempre vissuto a Siracusa in via Maestranza. e quindi storicamente sono e mi sento componente di una famiglia siracusana. Complimenti, trovo in forma, sei veramente magnifico, sembra di cuore sempre. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino, per cui ci siamo anche messi un po' più in linea. Cerco di mantenermi per evitare, sai, il grasso è peso, è malattia, quindi mantenersi un po' più magro, anche se dovrei perdere ancora parecchi chili, è un dato proprio di terapia, di salute. E quello dice Bernardo, Ulisse Buffer, magari la pancia. Senti, Bernardo, abbiamo sentito... Io ho sentito dire che l'avvocato è nato a Monte Rosso, io non sono nato a Monte Rosso, però i miei sono nato a Monte Rosso. E dove sei nato, Bernardo? Io sono nato a Brooklyn, New York, in America, sì. E lei vengo e mi spiego tutta la situazione, come diventa unica, unica ma tassa. Mio nonno faceva l'autista di piazza, suo papà lo portava sempre in giro per tutta la Sicilia, non c'è giocato a Udella, che era Fabio Gregorio Zuzzi, mio nonno. Lei è nata a casa, ah ma se è Angeletta di Benedetto, la vice nascita, la vice nascita, la vice nascita. Poi, appena lei è nata, dopo, poi, sua mamma l'ha voluta controllare e mio nonno l'ha portata a Ragusa, all'ospedale, a farlo controllare. a lei è appena nata, perciò ho visto che cosa... Che bella notizia che c'è stata, ma non ne sapevo questo che ho detto. Questi particolari no, però so che Bernardo ha radici monterrossane, la sua famiglia monterrossana, lui ancora viaggia da Monte Rosso e quindi è un motivo in più per essere contento di essere qui in questo locale per il quale voglio fare anche i complimenti, veramente, perché trovare un locale così ben riqualificato e ristrutturato, guardare questa pietra a vista, riportata veramente alla sua originalità è veramente già uno spettacolo vederla. So che si mangia molto bene, non solo la pizza straordinaria di Bernardo, ma si mangiano bene tutti i piatti dello chef e del cuoco e di questa cucina importante, è molto grande il locale, si possono fare anche tante attività, non soltanto per la seratina, ma anche per fare dei ricevimenti, quindi è uno dei luoghi dove venire a passare una bella serata. Grazie a tutti. Bernardo, scusi, che prodotti usi quando fai la pizza? Perché la gente ogni volta che mangia la pizza qua mi dice ma stanotte sono dormito bene, tranquillo, quindi vuol dire che è una lievitazione o stai dicendo qualche fesseria? No, no, allora, l'ultima volta avevo iniziato a parlare di questo, i prodotti che uso io sono tutti prodotti dei Montiblay, significa nulla di industriale, tutto artigianale, ogni prodotto conosco chi lo fa di faccia, non ce n'è lanna, boate, non esistono qua, qua è prodotto, campagna, qui, sulla pizza e la gente se la mangia. Le nostre farine sono 5-6 tipi di farine siciliane macinate a pietra come una volta, grani antichi, vengono fatti, la lievitazione è sempre 8 ore, però quello che conta è la maturazione, il tempo che viene fermato l'impasto ad una certa temperatura per farla maturare, significa che gli zuccheri composti vengono selezionati e rotti in zuccheri semplici, facilmente digeribili. Basta, ma non svelare i segreti perché sennò le altre persone che hanno evitato, devo dimmi, con i tempi frenetici che ci sono, ormai sedersi a fare due chiacchiere con un amico, ma raccominico con tutto il senso che sembrava voluto bene e altrettanto potrei dire che anche lui mi ha voluto bene a me, ma io oggi ho il privilegio di stare insieme al mio amico Titti Bufardecci. Cosa stai facendo di bello in questi ultimi anni, Titti? Chi pare che ha sparuto? Io non svolgo più nessun ruolo e nessuna attività politica ormai da sei anni circa e sono tornato al mio vecchio diritto amministrativo, al diritto amministrativo che ho praticato per tanti anni come avvocato, sin dai tempi ricorderai dell'avvocato Corpace, sin dal marzo del 76, da quando ho cominciato la mia attività professionale, oggi lo svolgo in un'altra veste, ma sono tornato a fare quel diritto amministrativo che è sempre stata la mia passione quando ho cominciato i miei studi all'università e quando ho svolto la mia attività professionale e quindi sono ben contento dello studio, della ricerca, dello scrivere, faccio un'altra cosa, sono contento di fare un'altra cosa, però consentimi di farmi dire anche una cosa rispetto alle cose che ha detto Bernardo e non per una logica così di affezione rispetto ai Monti Blei, ma non ci sombra di dubbio che quella parte della nostra Sicilia, del nostro territorio è veramente una parte che ha tante eccellenze nel Ragusano, nel Monte Rossano, ci sono alcuni prodotti proprio a partire dalla farina, da quei grani antini, dalla tumminia, di tanti prodotti che vengono ancora oggi lavorati in maniera eccellente, le scacce impanate per dire di alcuni paesi degli Blei hanno un qualcosina in più rispetto ad altri prodotti o ad altre pizze, ad altre scacce e quello che vale in un prodotto, in una pizza, come in un piatto di pasta, come in un secondo è la qualità, la regola è quella, se c'è qualità il prodotto è buono, si può essere il migliore gourmet del mondo, ma se tu hai un prodotto scadente non soddisferai mai il tuo cliente, il tuo utente o tu hai un prodotto buono e allora a quel punto esalti la tua qualità, esalti la tua bravura e quel prodotto diventa un'eccellenza e quindi fa bene, la prima regola per un locale come questo in questo caso che vuole avere successo è quello che fa Bernardo, prodotti eccellenti e quindi significa, grazie a un ottimo pizzaiolo, un eccellente pizzaiolo, pizza eccellente, pizza che ti mangi e che non ti resta qua sullo stomaco. Scusi sindaco, scusa Titti, ti chiedo umilmente scusa perché effettivamente bravo e non andiamo a passare come non interessa, non interessa, però fai tante cose, ma hai il tempo di coltivare i tuoi hobby? E come ti ho detto poc'anzi uno dei miei hobby è sicuramente il tennis e quindi cerco di giocare un paio di volte a settimana, ho ripreso a giocare perché ho detto poc'anzi indirettamente che ho avuto un po' di acciacchi, un po' di seccature e ho capito che a una certa età, la mia, la nostra, noi ci conosciamo da bambini, da ragazzini, a una certa età ho capito che non si guarisce più, bisogna convivere nel miglior modo possibile con gli acciacchi, pensare che uno guarisce e torna come rapicciotto, chiacchiere, purtroppo non si può essere più di una volta, diceva il poeta, quindi io cerco di adattarmi alle mie condizioni, cerco di fare per esempio quella preparazione, quel minimo di riscaldamento che magari una volta entravi in campo è curreuto, oggi cerchi di fare riscaldamento, cerchi di fare qualche allungamento, qualche stretching, cerchi di fare quelle cose che ti consentono di passare quell'oretta di tempo anche per ragioni di salute, proprio anche perché hai necessità di quel movimento che ti serve. Ti ricordi quando facevamo quel divertimento allo stadio dove tu facevi le telecroniche e avevamo ogni domenica 4-5 mila telespettatori, telespettatori allo stadio e a casa ne vediamo in tutto il mondo con satellite via insieme, te lo ricordi? Come no? Lo seguo, se lo uso ancora oppure no? No, lo seguo, ogni tanto vado ancora allo stadio e mi piace lo sforzo che è stato fatto anche in questi anni di riportare il Siracusa ai fasti del passato, non solo, ricordando anche le ultime esperienze che ci sono state, non c'è dubbio che l'ultima presidenza è riuscita a portare il Siracusa dal dilettantismo alla Serie C facendo fare nuovamente i play-off, quindi speriamo di proseguire e magari, chissà, di ritornare a livelli ancora più importanti, però il pallone, il Siracusa fa parte della mia vita, fa parte della mia passione, mio padre già mi portava da piccolino allo stadio, ho continuato a frequentarlo quando mi è possibile, ancora oggi ogni tanto ci vado, ma il Siracusa è la prima bandiera. Ti piace ancora soffermarti davanti a un buon piatto? Ti devo dire la verità, a me piace assolutamente tutto, non c'è una gara tra il primo e il secondo, tra la carne e il pesce, tra la pizza e la pasta, tra la pasta e il riso, devo dire che, lo dico così, tranne l'interiore, per il resto mangio tutto e quindi amo, forse la pasta in particolare, un buon piatto di pasta è quello che più mi soddisfa, ho due piatti preferiti, lo dico chiaramente, per me, e sono due piatti assolutamente tradizionali, rispetto a una buona norma, con la giusta ricotta salata, la melanzana, la fritta, il pomodoro fatto bene, lo trovo ancora oggi un piatto meraviglioso, così come io sono un grande patito, non me ne vogliano nessuno, a volte ho dei problemi anche a casa, quando dico che mi piace questo e a volte chiedo che mi venga cucinato, ma per me l'agnello, il capretto, al forno, con le patate, rimane il mio piatto preferito. Sì, sì, la pasta, i pennetti, faccio questo vedere dalle fine del mondo, siccome parlavo poco fa di questa norma, io ti devo dire, Bernardo, io ho un genere che è della Bielorussia, il marito di Alessandra, il marito di Alessandra, basta che una moglie ci fa questa pietanza della pasta all'enorme, quattro cotta salata, la melanzana, ma addirittura forse ce l'ha potuto spiegare, ma che non abbia lo giusto. Invece un altro mi ricordo che mi è rimasto in mente, quando ti sei prestato a cucinare insieme a Bruno Marziano per quella salata di beneficenza, mi pare che erai un politico ai piatti, non ricordo, hai cucinato bene? Ho cucinato bene, c'era Giovanni Fichera, che è un grande cuoco, un grande professore di cucina, un grande scrittore anche di cucina, un caro amico che ci guidava evidentemente, e quindi Bruno, alcune cose, io e altri abbiamo cercato di passare. Mi ricordo, scusa che ti stoppo, e poi chiudiamo. Mi ricordo, le bucce della patata sono fritte. Buonissime, buonissime, più buona della classica patatina fritta, più genuina ancora, più buona, più croccante ancora, e sì, ricordo quella serata, e ogni tanto, anche se non sono certamente un gourmet, ogni tanto un piatto di spaghetti cerco di farlo anche io. Titti, chiudiamo, però siccome per non rischiare che la gente ci milince, ma a dire parlimi, è per concludere, per il tuo amore per questa città. Io sono siracusano, come non posso amare la mia città? Tu l'hai cambiata questa città, Titti, lasciamelo dire. Ma non voglio parlare della mia attività di amministratore, io credo che ciascuno di noi ha un sentimento intanto di appartenenza, Ciascuno di noi è legato alle proprie radici ed è legato al territorio che vive, almeno immagino questo, io sicuramente lo sono. E quindi l'amore per questa città è dato dal passeggiare in mezzo a questi vicoli, è dato dal guardare questo porto, dal guardare un tramonto a Siracusa, credo che sia un valore aggiunto. Guardare le vecchie pietre di Siracusa è una città che ha delle potenzialità ancora in espresse, ma è sicuramente una città spettacolare, vive un grande momento di frequentazione, di presenza turistica. Spero che tutti noi siracusani riusciamo non soltanto a portare i turisti qui a Siracusa per la nomea, per la fama, per essere sito unesco e per le bellezze paesaggistiche, monumentali, archeologiche, museali, ma spero anche che riusciamo a convincere i nostri turisti e i nostri visitatori a tornare, ad andarsene con il sorriso. Non devono essere soltanto dei visitatori, ma devono essere i primi ambasciatori della bellezza, dell'eleganza, della cortesia, dell'accoglienza, dell'ospitalità, della buona cucina della nostra Siracusa. Però Titti, prima che te ne vai, vogliamo far arrivare questi stuzzi e antipastini. Finger food, finger food. Non ho mai fiori a dire in inglese. Prego, questi colorati, bellissimi, di un sapore. Ah, che odore meraviglioso. Allora Titti, io ti voglio... La cucina è sapore, ma è anche colore, è anche profumo. Già questo diventa veramente uno spettacolo per lo spirito, oltre che per il palato. Già guardare questi colori e questi sapori. Complimenti. Ascolta, a nome di tutti i siracusani, ti voglio salutare con un abbraccio. Scusa Titti. Un abbraccio, però solo un abbraccio che mi è stato richiesto da molte donne siracusane. Se vede, se vede, se vede, se vede, abbraccia il nillo, non conosce. Grazie, grazie Bernardo, grazie, grazie.